Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi giocheremo dopo un sacco di tempo, perché è da un'eternità che non giochiamo, a Predator Ice Age! Finalmente siamo tornati con Predator Ice Age! Ma oggi purtroppo giocherà il sottoscritto MAMB! Ecco, e questo è il problema! Tu non devi giocare a Predator Ice Age, devo giocare io a Predator Ice Age! Ma scusa, l'ultima volta mi hai permesso che giocavo io! Appunto, per questo non ci giochiamo da un'eternità! Sì però anch'io ho diritto di giocare, no? Mmm, giusto! Vabbè, continuiamo ad esplorare, ad esplorare... Devo giocare io! La mi table! Ma va bene! Adesso vado ad esplorare, esplorare, esplorare... Adesso vado ad esplorare... Non riesco a scalare... Ah, 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 sono riuscito! Ci sono riuscito! Ho scalato la montagna! Ho scalato la montagna! Ho scalato la montagna! Ho scalato la montagna! Vabbè, dai, MAMB! Vuoi scattare qualche foto o no? Va bene, va bene! Scattiamo una foto a questo poccio! Ah, non dire, porco, ma... Non dire quella parola! Dì a questo facocelo! A questo faco, vabbè! Va bene, scattiamo la foto a questo animale! Oh, qualcosa di nuovo! Un rinoceronte! Finalmente! Un cosa di nuovo! Oh, cavolo! L'abbiamo perso! Ehm... Cioè... Finalmente vedevamo qualcosa di emozionante e l'abbiamo perso! Oh, uffa! E pensavo che era così bello! Infatti! È la prima volta che vedevamo qualcosa che non è né un facocero e né un archeopteryx! Non fatti! E dai, scattiamo! Oh! C'è qualcos'altro! No, vabbè! No, vabbè! Ma questo sì che è un vero facor! No, vabbè! No, vabbè! Ma... Un facor con le zanne! Oh, mio Dio! Stiamo perdendo un sacco di cose nuove! Viva! Mamma, mi sa che devi giocare più spesso! Yeah! Bene, ragazzi! Fateci sapere se questo video di quel gioco io vi è piaciuto! E noi ci vediamo alla prossima puntata! Ciao! Ciao!